Ma incontriamo Brescia, diciamo che la squadra di Brescia sono molto completa e molto forte e stanno anche vivendo un momento molto positivo come squadra, come anche risultati e tutto. È vero che ci hanno giocatori come De La Valle che è un giocatore veramente da anni che sta facendo vedere di che tipo di giocatore è. Non si sorprendiamo se gioca così e noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita, visto che qua abbiamo perso però la squadra era diversa di adesso e noi cercheremo di giocare come abbiamo giocato con questi due partiti, un fortuna con Trento, anche migliorando un po' e secondo me se facciamo così il risultato positivo arriverà. Nell'ultimo sono andato in quintetto perché il mio culo stava un po' male perché la sera prima stava male, avevo un po' di febbre per fortuna non era il Covid ma stava un po' male, per quello sono partito in quintetto e diciamo che partire in quintetto o partire in panchina non ha, diciamo, di basket di adesso, secondo me non cambia niente, cambia solo chi lo finisce la partita. Io ho cercato di dare una mano alla squadra, cioè in difesa e quelle che mi chiedono di cominciare proprio da lì, la difesa e gli rimbalzi, poi il resto, sai, se fai tutto questo, il resto ti arriva anche facendente. Grazie.